L'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali del lavoro ha sbloccato le somme per il pagamento delle ore di straordinario per 3.016 lavoratori ASU relativa al quadrimestre del settembre-dicembre 2022. Gli uffici stanno provvedendo tempestivamente al pagamento della somma relativa ai primi tre mesi. In considerazione del fatto che per il mese di dicembre 2022 le attività sono ancora in corso, verrà infatti liquidata a titolo di acconto per i mesi settembre-ottobre-novembre 2022 la somma di 5.582.254 euro. Mentre così come previsto dalla legge, il pagamento definitivo si provvederà nel successivo esercizio finanziario. Nei prossimi giorni gli uffici provvederanno a liquidare le somme spettanti ai tanti lavoratori che svolgono responsabilmente ad anni un'attività fondamentale di pubblico interesse, dichiara l'assessore Nuccia Albano. Prima di Natale il personale ASU riceverà i dovuti pagamenti. Ed è lo stesso pensiero il presidente della regione Sicilia Schifani che sottolinea il prezioso lavoro svolto dal personale per il funzionamento degli uffici in cui presta servizio. Inoltre, a concluso, approfondiremo l'avvertenza che li riguarda per provare a trovare una soluzione legislativa e amministrativa che sia sostenibile.